Grazie Mi sembra che questo è quello tempo E' stato una passeggiata Facilissimo, non le farei altre tre volte Questo lo faremo ogni giorno per 15 giorni Grazie Dovete svegliarvi in tempo per essere magari docciati e rinfrescati Dove è il brief? Cioè, dove ci dobbiamo trovare per il brief? Qua Sempre qua Tutto parte sempre da qua Poi le attività vengono in giro per il paese Ma tutto parte sempre da qua La mecca è ordinato 9 inizioni brief L'unico brief che non inizia domenica a 9 è quello di domani Un'altra proposta che è a 320 Ci si è parte di oggi davanti Sì, sicuramente lo avete visto Sulla destra, via Sant'Anna E li lavavano le mostre Ci ha partecipato a una scorsa della mele docente Questa è stata una pollia di docente Quindi, ma, vi chiedono chi vuole andare al mare Ok? Mi dite siamo in 5, siamo in 6 Siamo io, 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 io Noi ci organizziamo per farci che qualcuno vi porti al mare Chi non ci vuole andare invece è liberissimo di stare qui nello spazio E in giro per il paese Anche in quel caso il pranzo è solo qui Ed è da l'1 alle 145 Dalle 19 alle 19 alle 45 Siete liberissimo di fare quello che volete Quindi potete andare in paese se volete Attenzione perché poi la mattina comunque la colazione alle 8 Nessuno vi dirà mai Non vi dirà mai Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti